buongiorno oggi c'è il sole però ci sono tipo meno due gradi attualmente fuori no meno uno non lo so e altro problema dovrebbe essersi fatto un danno in quanto qua mi si è tolta la parte sotto straccata ed è uscito questo quindi è impossibile riattaccare il nostro caro bel cavalletto poverino che avevo comprato poi ci farò tutti i video altre cose però niente solo per venire qua chi mi chiedete di blog fatti un po a caso e timelapse ciao vi faccio vedere anche l'acquisto di ieri ho comprato questo per non c'era quella singola quindi ho comprato un po di presa e quindi abbiamo anche la presa usa è molto più comoda perché tu la puoi ripiegare sole questo è un bel sole fa freddo ma c'è il sole questo è un iphone 14 però al posto della sim c'è il coso del 5g nuovo acquisto compiuto la bellezza oltre la bellezza di questa città c'è gli alberi le cose fantastico wow davvero davvero bello ora però si torna al freddo giustamente sempre al park sembra abbastanza scemo cominciato così però vabbè dai ci sta qui sarebbe stato davvero figo con il cavalletto fare qualche bel timelapse ho messo una storia con il il paese dei folk mind perché c'ho in testa due giorni e dovevo farlo andiamo a patinare eh comunque col sole si sta di parecchio bene eh aggiungi ai flex della vita al percorso assalto la parca seee vai uomo vai uomo fai suorste palle basta sono più bravi da me sono più bravi da me sono più bravi da me ma è abbastanza un po' di rosa L'obiettivo è raggiunto, eccoci, è un'ultima bella fila ombrosa, ci andiamo. Siamo dentro, fa un caldo che si muore, è bello, molto bello. Guarda bello, spettacolare. Pazzesco. Pazzesco. Poi c'è sull'Artist, un po' tutto il concetto di Artist, vedendo un video a parte che spero uscirà presto, però tanta roba, cioè a chi farà. Si torna al fresco, no però è molto più caldino, c'è il salto. Boh. Si va verso un posto, a dir poco, fantastico per mangiare. Sempre per me malato di serie tv. No, non è molto bello. Poi, c'è il 45% sull'iPhone. Se devo fare più le critiche, manca Spider-Man anche sull'omborata e il palazzo. Manca molto. E' proprio il resto, un'ottima città, proprio il resto. Cioè, già dico cagate, poi con questo cappello sono un po' meno credibile, eh. Una cosa molto stupida, ma sono emozionato. Acqua, coca. Spettacolo. Buono. Eh? Buono, molto buono. Anche con un po' di venticello, con il sole si sta di molto bene. Ovvero, sei sotto casa di Talanai. Grazie. Non c'è intanto che ho visto direttazioni. Già solo parlarne, mi dovrebbe servire un video a parte. Che dire, signori? Pazzesco. Guardate bene. Pazzesco. Cioè, assurdo. Possente. No, non è la Space Shuttle. Questo è lo Space Shuttle. La possenza. 12. 12. Chiamare di programma. Una roba ancora più figa di questa, domani. Quindi... Cioè, domani o dopodomani, non lo so. Poi vedrete nei blocchi. Buonasera. Qui, comunque, io sono molto visti sul tipo Napoli. Buona. Ginger ale. Buono. Comunque io continuo ad adorare con le menti questo posto. Buono. Cioè, secondo me è fantastico. Sì. Vai a sentire il musichino adesso. Cosa c'è nei market americani? Ok. Pronto. Guarda il tetto. Eh? Eh? Roba. Guarda bene. No. Vedi? Sarebbe molto figo concludere il vlog con questa musica chill. Ma è fantastico! Allora. Ok. Allora! Allora! Grazie a tutti.